Ciao a tutti, oggi siamo qui con Opel Corsa 2020 Bellissima, nella sua versione bicolor, grigio e nera 1.012 cilindrata, 75 cavalli Nel suo allestimento è Elegance L'auto è una chilometro zero, quindi nuova Già immatricolata, ma mai utilizzata Tra i suoi dettagli possiamo sicuramente notare i cerchi in lega, multirazza Come dicevo prima, il tetto nero che fa contrasto con il grigio della vettura Troviamo alcune cromature lungo le portiere e i vetri oscurati Diamo uno sguardo al nuovo look, l'auto è stata abbassata di qualche centimetro Ed è diventata molto più lunga Il comparto luci full LED con i fari a fischietto E la nuova calandra davvero stupenda con i dettagli cromati Dettagli in pelle molto belli nelle portiere Questi gli interni con i sedili morbidissimi dal design davvero davvero raffinato Appena si sale a bordo si capisce subito che ci si trova su una Opel Corsa Sulla nuova Opel Corsa Molto bello questo design del nuovo volante in pelle Tre razze con comandi di gestione dell'infotainment Tra cui comandi vocali che non possono mancare E il cruise control con l'imitatore di velocità Abbiamo lo schermo touch per gestire l'infotainment C'è la radio, c'è il bluetooth, c'è Apple CarPlay e Android Auto Nelle impostazioni troviamo alcune assistenze di guida Tra cui la commutazione automatica dei fari abbaglianti e anabaglianti L'acti safety brake Il riconoscimento dei cartelli stradali E l'allarma e stanchezza guidatore Lo troviamo in maniera classica sempre il sistema di climatizzazione automatica Che si può anche regolare direttamente dal menu sullo schermo touch Qui in mezzo dei portabicchieri Un pozzetto portaoggetti Questa la trovate con in dotazione il pacchetto parking Con retrocamera, sensori di parcheggio e visione anche dell'angolo cieco Mantenimento della corsia Antipattinamento, stop and start E qui un altro spazio portaoggetti Non possono mancare poi la presa USB e quella a 12V È dotata anche gli attacchi ISOFIX sui sedili anteriori E non possono mancare su quelli posteriori Temendo esattamente dietro al logo Opel Poi si apre il bagagliaio Bagagliaio comunque decisamente spazioso Dalla soglia di carico bassa Per niente male trattandosi di una segmento B Poi alzando qua sotto troviamo anche il rotino con il kit d'emergenza Quindi tutto quello che vedete è chiaramente compreso nell'offerta Anche il rotino di scorta, tutti i vari optional Il pacchetto parking Vogliamo essere trasparenti e mostrarvi effettivamente ciò che vi vendiamo L'auto ha passato tutti i 100 punti di controllo Chiaramente si tratta di una chilometro zero Quindi l'auto è praticamente nuova Verrà poi igienizzata e sanificata nuovamente Prima di esservi consegnata Se volete questa in particolare Mi raccomando riservatela subito con solo 100 euro Coprite tutte le nostre 500 passavetture su ratiauto.com E tutti i nostri servizi Link in descrizione Alla prossima Ciao